parliamo finalmente di talk to me un film controverso perché ci sono diversi input che arrivano da tutte le parti un input è che il film è diretto da due giovanissimi giovani giovani proprio youtuber comunque sono nati su youtube si chiamano danny philippo e michael philippo o philippo non lo so com'è la pronuncia se è un nome francese o di che altro paese comunque diciamo un boomer non gli darebbe due lire e il film è un teen horror fondamentalmente non si vede dal trailer che è un teen horror e spesso il teen horror viene associata la come dire viene associato vengono associati film non troppo di qualità al contempo il film è distribuito da 24 che invece è una una casa di distribuzione molto attenta alla qualità e l'autorialità dei film quindi ci sono tanti indizi e uno va vede questo film io l'ho visto in antiprima stampa visto ieri il film uscirà il 28 settembre al cinema dico subito una cosa questa recensione cercherà non spoiler assolutamente quindi vi darò delle indicazioni su cosa state per andare a vedere e vi dirò cosa ne penso talk to me parla di questi teenager che fanno queste feste dove c'è appunto questa mano che è una mano non vi dico che mano è è una mano particolare una cultura di mano se dai la mano e fai un certo rituale dici delle cose appunto talk to me parla con me succedono delle cose spaventose e però allo stesso tempo farlo genera molta adrenalina molta insomma divertimento e qua ci sono delle cose già interessanti la nostra protagonista questa ragazza che vediamo nel trailer viene da un brutto una brutta situazione vuole diciamo non pensare troppo ai suoi problemi e decide di buttarsi e provare questo gioco che fanno questi ragazzi è diventato famoso tra di loro con appunto la condivisione di video sui vari social eccetera quindi ovviamente pensano che sia uno scherzo e lo provano tanto per per divertirsi da lì in poi chiaramente si apriranno le porte dell'inferno metaforicamente parlando ma anche non solo metaforicamente parlando inizio la recensione dicendovi che per me talk to me è un gran bel film veramente un gran bel film mi sento di poter dire che siamo di fronte a due ragazzi che possiamo definire un fan prodige dell'horror dell'horror però mainstream perché è qualcosa che hanno nelle corde è proprio il loro modo di vivere il linguaggio cinematografico la cosa che mi ha sorpreso tantissimo è che effettivamente talk to me è un teen horror è veramente un teen horror dall'inizio alla fine ma questo termine troppo spesso purtroppo per noi e per chi è andato a vedere questi film è associato a una scarsa qualità a una qualità dei contenuti molto ridotta invece qui siamo di fronte a un teen horror esclusivamente come genere cioè i protagonisti di questo horror sono prettamente degli adolescenti e quindi mi verrebbe da dire che questo è in assoluto il miglior teen horror che io abbia mai visto negli ultimi anni parlo di storia recente parlo di quello che esce ultimamente al cinema diciamo tra i teen horror moderni è la cosa più bella migliore che io abbia mai visto non è legato proprio al target dei ragazzi e c'è un teen horror non perché il film è per i teenager ma perché parla di teenager ma lo può guardare tranquillamente un adulto fan dell'horror e divertirsi un mondo anzi più che divertirsi un mondo angosciarsi parecchio perché il film è un film che ha dei tocchi dentro autoriali interessantissimi nonostante riesca a parlare un linguaggio giovanile perfetto che sembra credibile dentro porta delle modalità espressive che sono più più autoriali come per esempio rappresentare lei e suo padre che hanno vissuto un dramma sempre in una casa piena di ombre molto scura con le luci sempre basse sempre spente questa è una scelta assolutamente che all'inizio può sembrare strampalata e poi col tempo ci renderemo conto che quella quell'ombra quella quell'oscurità che c'è nella loro casa è rappresenta la loro depressione perché entrambi vivono la depressione la scrittura dei dialoghi è molto bella interessante e il film non fa ridere non ha battute è un dramma fondamentalmente ed è un dramma che si aggrava e diventa un incubo quindi in questo appunto è un teen horror che però non ha dentro tutta una serie di elementi che servono a stemperare la tensione a farvi fare un po' su e giù con le emozioni no questo è un horror è un incubo in alcune cose assomiglia agli horror che come quelli di ariaster ereditary è perché sono veramente delle discese verso verso un incubo verso l'inferno niente migliora tutto va sempre peggio io l'ho apprezzato tantissimo non è il mio genere preferito perché io preferisco gli horror a livello estetico un linguaggio molto più autoriale non hanno lo scopo di spaventarti ma questa è una questione di gusto personale questo film invece ha l'obiettivo di spaventarti ma mettendoti prima in uno stato di agitazione di ansia inquietudine dandoti anche uno scenario un ambientazione che in parte mi ha ricordato eraser di clive barker e appunto event horizon con questo inferno inquietantissimo event horizon tra l'altro appunto vanta la partecipazione di clive barker per la creazione di quella di quella visione dell'inferno io vedo in questa rappresentazione l'inferno inquietantissimo spaventoso che ci spiazza e se ci facciamo trasportare dalla storia ci spaventa l'idea che che ci sia un al di là così un al di là così inquietante ogni anni a editare video su youtube possono renderti un bravo regista ragazzi il film è girato bene il film è girato bene in realtà non ha un look and feel così tanto da film mainstream nel senso ce l'ha ma non così tanto ed è riuscito anche un paio di volte a allora una volta è riuscito anche a farmi un pochino saltare sulla poltrona e una scena all'inizio davvero mi ha disturbato mi ha disturbato parecchio poi chiaramente soggettivo però è veramente un film violento horror non ci sono praticamente jumpscare cioè ci sono ma sono camuffati in modo da non sembrare degli stupidi jumpscare diciamo basati solo sull'effetto sorpresa sono sono ben inseriti all'interno dei momenti di suspense di paura è ottima bisogna vedere se riesce a fare un ottimo lavoro anche con il doppiaggio per mantenere appunto questa atmosfera anche cupa che al film il film estremamente cupo secondo me questo è un film che piacerà un sacco di gente per me è un grandissimo film horror mainstream probabilmente visto che sapete che faccio una classifica ogni anno di tutti i migliori film horror che ho potuto vedere questo posso ipotizzare che sarà sicuramente nella top five sono abbastanza sicuro che questi due ragazzi diventeranno gli idoli assoluti di tantissima gente che ama il cinema horror perché sono giovani e non te lo aspetti non ti aspetti tutta questa bravura e c'è un un futuro davanti luminoso e lungo partire con un film che si è vendibile commerciabile e mainstream però allo stesso tempo vuole portare tanta qualità sia nella scrittura della storia che nella sua realizzazione quindi per me top consigliatissimo consigliatissimo a tutti